Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi parliamo delle ultime letture che ho fatto nel 2020, quindi le letture di dicembre. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già di seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Non so se ricordate, ma io lo scorso anno, come ogni anno, ho fatto una TBR, quindi una lista di libri che avrei voluto leggere entro Natale. Se vi siete persi quel video ve lo lascio qui e nell'info box. In ogni caso in quel video parlavo appunto dei libri che volevo leggere entro Natale e l'ultimo di questa lista era proprio Fussera e fumattina di Ken Follett. Quindi non solo questa è stata una meravigliosa lettura, ma mi ha anche permesso di terminare la mia TBR. Il libro mi è piaciuto tantissimo. È stato probabilmente un ritorno alle origini di Ken Follett. Siamo alla fine del Novecento, i primi anni del Mille, quindi questo è un prequel della trilogia dei pilastri della Terra. In questa maniera lui riesce a raccontare quali sono le origini della città di Kingsbridge. Il libro mi è piaciuto molto per diversi motivi. Primo fra tutti il fatto che ci sono all'interno pochi personaggi, o comunque un numero limitato di personaggi, che mi ha permesso di affezionarmi molto ad ognuno di questi, sia in maniera positiva che negativa, perché sono interessanti anche i personaggi negativi. Inoltre il fatto che tutta l'azione si svolga in un numero limitato di anni mi ha permesso anche in questo caso di entrare ancora di più all'interno della storia. Inoltre, come sempre ritroviamo nei libri di Ken Follett, la presenza non solo di personaggi ben congeniati, molto realistici, ben sfaccettati, ma anche di donne, personaggi femminili davvero forti e tenaci, e questo è una cosa che io apprezzo sempre. Nel libro i protagonisti ovviamente vanno avanti con la loro vita, ma inevitabilmente incontrano degli ostacoli. Abbiamo come sempre le due fazioni, quindi personaggi positivi, personaggi buoni per i quali facciamo il tifo, e personaggi negativi, quelli più crudeli, più cattivi, che invece non vogliamo assolutamente vedere arrivare al successo. Durante la prima parte del libro, la prima metà del libro, i personaggi buoni hanno delle piccole vittorie che ci fanno un po' tirare un sospiro di sollievo, ma da metà in poi inizia la rivincita dei personaggi più terribili che Ken Follett riesce a creare, e quindi siamo costretti nell'agonia ad andare avanti, andare avanti ancora, perché non possiamo accettare che quella sia la sorte dei nostri personaggi preferiti, di quelli che ci stanno più a cuore. Questa è una delle grandi abilità di Ken Follett, il fatto di farci provare delle sensazioni molto forti quando si legge. Io e mia sorella abbiamo letto questo libro contemporaneamente, lei mi diceva di non riuscire a smettere di leggerlo la sera, perché era troppo agitata, quindi viveva queste avventure, queste scene in maniera molto personale quasi, e quindi insomma doveva assolutamente vedere come andava a finire. Il libro vi tiene incollati veramente fino all'ultima pagina, e anche questo non può che essere un punto a favore di un libro del genere. Anche perché ammettiamo che la mole è abbastanza importante, e quindi se non fosse un libro accattivante, sarebbe magari più difficile portarlo a termine, e io l'ho fatto veramente in poco tempo. Il periodo storico che racconta Ken Follett è molto interessante, come sempre lui si rivela un maestro nella descrizione dei periodi storici, e soprattutto a me piace quando mi immergo in un mondo che proprio non conosco, e quindi anche le cose più piccole, più banali, come può essere, non so, i costumi, il lavoro, come si fa la birra, come si coniano le monete, ecco che diventano tutti argomenti super interessanti e coinvolgenti, perché c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Adoro i dialoghi di Ken Follett, perché secondo me lui sa gestire molto bene non solo la parte appunto del dialogo, ma tutto quello che c'è intorno, quindi cosa pensano i personaggi, come dicono le cose, che cosa pensano per riuscire a, non so, in qualche modo convincere il proprio interlocutore. Insomma, diciamo che il personaggio viene descritto sotto tutti i punti di vista, in tutte le sue sfaccettature, anche all'interno dei dialoghi, e questo mi fa immedesimare ancora di più. Insomma, un libro che a me è piaciuto molto, devo dire la verità, mi è stato detto da molti di voi su Instagram che il libro ha ricevuto delle recensioni un po' contrastanti, c'è chi l'ha adorato e chi invece non l'ha trovato assolutamente degno dell'autore. Io non ho letto nessuna di queste recensioni, però se avete gusti simili ai miei, sicuramente è un libro che vi consiglio di leggere. Unica pecca, io e mia sorella abbiamo trovato almeno tre refusi nella stampa. Probabilmente qualcuno ci ha sfuggito, però insomma tre li abbiamo trovati. Visto che il prezzo del libro è di 27 euro, credo che insomma la Mondadori potrebbe stare un po' più attenta quando fa, appunto, quando stampa un libro del genere. A parte questo, comunque, super consigliato e se siete amanti del genere, dovete averlo. Il secondo libro di cui vi parlo l'ho acquistato in ebook, per fortuna, perché è un libro che non mi è piaciuto per niente e quindi, insomma, sono contenta di averlo pagato poco poco, perché in ogni caso, come cartaceo, non avrei voluto averlo nella mia libreria. Il libro in questione si intitola Buddismo, comunque vi lascio la copertina qui, perché ha un sottotitolo bello lungo ed era comunque un libro sul buddismo per principianti, quindi doveva essere un libro in cui trovare un po' quelli che sono le basi di questa religione, che ai miei occhi risulta molto interessante. Avevo deciso di leggere questo libro perché, facendo yoga, ma soprattutto studiando mindfulness, molti dei principi che vengono spiegati in questa disciplina, si rifanno agli stessi principi che si ritrovano proprio nella religione del buddismo e quindi ero incuriosita e avevo voglia di sapere qualcosa in più. Questo libro però, in realtà, non mi ha assolutamente soddisfatta perché è brevissimo ed è soltanto un elenco dei punti fondamentali di questa religione, un elenco poco sviluppato in realtà, quindi per ognuno dei concetti che vengono raccontati vengono spese davvero pochissime parole, quindi non c'è approfondimento, molte delle cose che ho letto le conoscevo già, quindi è un libro che in realtà non mi ha dato niente. L'ultimo libro del quale vi parlo, che poi è stata l'ultima lettura conclusa nel 2020, è il primo libro di piccole donne. Oggi ho solo tomi giganteschi tra le mani, comunque questo libro racchiude in realtà tutti e quattro i volumi di piccole donne. Ve l'ho già mostrato altre volte perché questo è un libro un po' vintage della mia mamma che apparteneva alla mia mamma e che io adoro. Ha proprio le pagine ingiallite che profumano di vecchio, buonissime. E questo era uno dei miei buoni propositi, probabilmente degli ultimi tre o quattro anni. Ogni anno mi riproponevo di iniziare a leggere i libri di piccole donne. Ecco, quest'anno, anzi l'anno scorso, il 2020, è stato l'anno giusto e ce l'ho fatta. Oltretutto, sono felice di averlo letto a dicembre perché secondo me è il mese migliore per leggere piccole donne. La storia, penso, la conosciate tutti. Comunque si parla di queste piccole donne, quattro sorelle, che vivono insieme alla madre. La loro non è una famiglia ricca, nonostante abbiano un passato da famiglia benestante, ma il padre delle ragazze, per aiutare un amico, ha perso tutti i suoi soldi. E adesso si trova lontano, si trova in guerra e loro vivono insieme alla madre, cercando di aiutarla, anche economicamente, nelle faccende di casa e nella vita quotidiana. Inoltre, con loro vive Anna, che credo sia una specie di domestica, ecco, che le aiuta nella loro quotidianità. Le quattro sorelle sono descritte benissimo. Ognuna di queste ha il suo carattere, le sue passioni, la sua indole, i suoi sogni. E quindi ci affezioniamo ad ognuna di esse. Sicuramente la più interessante è Jo, che dovrebbe essere la secondogenita, se non erro, che è un po' un maschiaccio, quindi è un po' la pecora nera della famiglia. Ma in realtà ognuna di loro ha delle caratteristiche peculiari che la rendono unica. Le quattro sorelle dividono le loro esperienze tra quelle di bambine e quelle di donne. Perché il libro racconta, in pratica, tanti aneddoti che si svolgono all'incirca nell'arco di un anno. Perché il libro inizia il Natale di un determinato anno e termina il Natale dell'anno successivo. Vengono narrati vari episodi durante i quali si vede come le quattro sorelle siano terribilmente unite quando sono a casa, quindi in grado di giocare ancora insieme come se tutti avessero la stessa età. Ma allo stesso tempo ci sono delle occasioni dove le sorelle maggiori hanno invece voglia di sentirsi più adulte. Quindi sono quelle che lavorano, sono quelle che magari ambiscono ad andare ad una festa, incontrare persone appartenenti all'altra società e così via. Anche se Jo, pur essendo la secondogenita, è l'unica che non pensa assolutamente al matrimonio, distinguendosi dalle altre sorelle. Un altro personaggio importante che mi è piaciuto molto è Lori, che è un ragazzo che vive con il nonno nella casa accanto alla loro e che fa amicizia con le quattro ragazze, è un'amicizia che è molto forte, soprattutto con Jo ma poi con tutta la famiglia. Persino il nonno che è tanto burbero e che sta sempre in solitudine riesce ad affezionarsi alle quattro ragazze, soprattutto ad una che gli ricorda tanto la sua figlia scomparsa tanti anni prima. Il libro è praticamente incentrato anche su tutto quello che le sorelle imparano durante la loro vita, quindi il fatto che abbiano dei difetti, ogni tanto sbagliano, litigano, si fanno dei dispetti, ma poi c'è sempre la madre che riesce con poche parole, con pochi gesti ad aggiustare tutto e a far capire alle sorelle che si può litigare, si può ogni tanto cedere a quelli che sono appunto i nostri difetti. L'importante è pentirsi e scegliere ogni giorno di cercare di essere delle persone migliori e questo è quello che fanno le quattro sorelle. Secondo me è un insegnamento molto bello, molto dolce, è una storia che emana calore e quindi si legge con grande piacere soprattutto a dicembre. Oltre ad essere presente una forte unione familiare, perché le quattro sorelle come ho detto sono davvero molto unite, è anche presente il tema della carità, quindi il fatto di riuscire a donare agli altri, ai più bisognosi, anche quando si pensa di avere molto poco, perché in realtà c'è sempre qualcuno che ha ancora meno di noi e quindi siamo in grado di aiutarlo con le nostre possibilità. Secondo me sono tutti messaggi molto belli, spero quest'anno di andare avanti e di proseguire con gli altri volumi, però per il momento è stata una lettura veramente bella, sono super felice di non essermela persa. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto e ovviamente presto arriverà anche il video delle letture di gennaio. Fatemi sapere se i libri con i quali avete concluso il 2020 erano belli oppure no, se avete letto qualcuno di questi libri, se mi consigliate qualcosa di nuovo, mi fa sempre piacere. E noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao! 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 Ciao!